che io possa vincere ma se non ci riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze questo è il motto degli Special Olympics a cui noi ci uniamo io nella mia vita ho sempre provato con tutte le forze poi ho avuto vinto, ho avuto perso, che succede? l'importante è... vincere, bisogna vincere no, che bisogna vincere? no, abbiamo appena detto il contrario, scusa abbiamo detto che bisogna provarci con tutte le forze e lì c'è scritto ma non è c'è scritto ma che vincere? no, invece bisogna poter dire di averci provato con tutte le forze è questo che dovete fare e cosa vai a dire? eh, ci ho provato sì, sì, è giusto, è giusto anche dire ci ho provato per cui adesso ripetiamo insieme il motto degli Special Olympics che è che io possa vincere e se non ci riuscissi si rifà no, che si rifà che non vincere no, non è che si rifà perché non è giusto no, non si rifà no, non si rifà ragazzi, non si rifà invece è proprio bello quello è proprio il fatto di poterci provare di averci provato capito? e vi assicuro che se ci proverete ma tanto, tanto, tanto poi vincono tutti ma che vincono tutti? eh sì, sì, vincono tutti a forza di provare prova, prova vincono tutti beh, se ci provate bene vincete tutti per davvero grazie a tutti